Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi finalmente a gran richiesta torna un altro episodio del Play Like A Pro, la rubrica nella quale andiamo a indagare, andiamo a cercare di rubacchiare quelle che sono le tattiche e le istruzioni dei nostri amici pro player in giro per il mondo e per l'Europa e oggi ho deciso di portarvi quelle che sono le tattiche del buon Dull & Mike, pro player tedesco che ha stupito tutti, stravincendo, dominando il Food Champions Regional Qualifier numero 2 portandosi a casa addirittura alla finale con un parziale di 12 a 1, stupendo tutti perché lo ha fatto andando a utilizzare un unico modulo, il 5-3-2. 5-3-2 per difendere, 5-3-2 per attaccare, per recuperare le partite, un modulo che veramente ha imparato a utilizzare alla perfezione. ci tengo a specificare, prima di andare a vedere tattiche e istruzioni, che si tratta del 5-3-2, un modulo sì buono, ma che non è un modulo meta, così a prescindere. La discriminante tra un modulo buono e un altro modulo la fa semplicemente la differenza che voi andate a applicare nel padroneggiarlo, quindi magari c'è qualcuno che il 5-3-2 non riesce a usarlo, mentre io magari mi trovo meglio con il 5-3-2, mi trovo peggio col modulo che un'altra persona utilizza al meglio. Quindi questa è la discriminante, è un buon modulo così come sono altri, vedete voi con quale vi trovate meglio. E un'altra precisazione che ci tengo a fare è che andando a mettere questo modulo non è che si diventa dei fenomeni dell'attacco in ripartenza e dei fenomeni della difesa, diciamo, catenaccio style all'italiana, bisogna comunque imparare a capire i moduli e utilizzarli anche per tanto tempo prima di masterarli. Quindi, precisazione che secondo me era doverosa. Passiamo subito a vedere, senza perderci ulteriormente in chiacchiere, le tattiche del buon di Hullen. Eccoci qua, quindi come vi dicevo 5-3-2 all'around per il nostro amico tedesco e quindi partiamo da quello che è l'assetto difensivo, quindi per andare a difendere i match. Stile di difesa che viene impiegato è ripiega, ripiega ci consente di mantenere il nostro assetto difensivo e di concedere il possesso agli avversari, cercando dunque di accompagnare l'azione avversaria e difendere belli compatti. Tuttavia, come dice anche la tattica difensiva, si avranno meno spazi in ripartenza, quindi occhio. Per quanto riguarda ampiezza 5 e profondità 5, sono parametri standard, quindi non vuole una squadra né troppo alta, con profondità 5, quindi non vuole neanche l'utilizzo e lo spam automatico della trappola del fuorigioco, né una squadra troppo larga con l'utilizzo di ampiezza 5. Per ovviare al discorso della ripartenza, che potrebbe essere sterile, il vecchio Volpone utilizza palla lunga, quindi per far sì che i suoi giocatori, una volta recuperata palla, tendino ad aggredire gli spazi liberi e dunque, dopo aver difeso, partire con un contropiede sfruttando la zona esterna di campo. Con ampiezza 5 e giocatori in area 5, il buon Diullen si assicura, insomma, appunto una squadra non troppo larga e soprattutto si assicura una densità media all'interno dell'area di rigore. Con angolo e punizioni 2, invece, si garantisce, o cerca almeno di garantirsi, la salvaguardia dai vari contropiede. Per quanto riguarda, invece, le istruzioni, il buon Diullen va a applicare, resta dietro in attacco ai terzini, per quanto riguarda i 3cc, resta dietro in attacco a due di questi con copertura al centro, e a uno, invece, attacco equilibrato, sempre con copertura al centro. Due punte che, invece, vengono lasciate su attacco misto. Questo perché vuole essere lui padrone degli inserimenti, quindi schiacciare le 1 per farli inserire quando ritiene che sia necessario e, invece, scambiare tra di loro per cercare gli spazi quando, appunto, non c'è spazio da aggredire in profondità. Quindi, attacco misto che, poi, vedrete, sarà una chiave che ritornerà più o meno in tutte le varianti del 5-3-2 del buon Diullen. Quindi, questo, per quanto riguarda la variante più difensivista di tutte. Andiamo a vedere, poi, quello che è il 5-3-2, diciamo, standard, che va a applicare e vediamo che utilizza, in questo caso, uno stile di difesa equilibrato, quindi bilanciato, va lui a gestirsi, switch, momenti di uscita, trappola del fuorigioco col tasterino, eccetera, eccetera. Di fatti, anche in questo caso, utilizza ampiezza 5 e profondità 5, con una squadra non troppo larga e non troppo alta. In questo caso, passiamo anche ad uno stile di gioco equilibrato, quindi vuole essere lui padrone dei suoi inserimenti, non vuole che gli esterni o gli attaccanti attacchino la profondità, senza che non sia lui a farlo e a comunicarlo con l'L1. Ampiezza 4, il giocatore in aria, in questo caso, va a stringere in partenza la squadra per cercare, magari, di allargare lui il fraseggio e il giocatore in aria vuole che, insomma, la maggior parte della manovra si vada a sviluppare, appunto, fuori dall'area di rigore per poi liberare in aria le due punte che possono tranquillamente girarsi e finalizzare. Per quanto riguarda le istruzioni, in questo caso abbiamo partecipa all'attacco per i terzini, che quindi diventano degli esterni, praticamente, e in fase offensiva abbiamo un letalissimo 3-5-2 che ti permette di avere una ampissima gamma di soluzioni davanti. Per quanto riguarda poi i centrocampisti, abbiamo due sul resto dietro in attacco e copertura al centro e uno su avanza con copertura al centro. Diciamo, quindi, diventa anche un po' una sorta di COC, no? In fase offensiva uno di questi per andare a dare ancora più supporto alle due punte che anche in questo caso vengono lasciate, come vi dicevo in precedenza, su attacco misto. Quindi, ancora una volta, cerca lui di andare a recuperare gli inserimenti attraverso l'utilizzo dell'L1 senza che i due giocatori gli scappino via andando a creare separazione tra i reparti. Quindi questo per quanto riguarda la variante standard, il modulo col quale lui inizia le partite e diciamo, a meno che le cose non si mettono male o troppo bene, non va a cambiare. Per quanto riguarda invece l'ultimo schieramento, ossia la versione più offensiva di questo 5-3-2, quella che va a inserire per quando c'è la necessità di recuperare le partite, andiamo a vedere che utilizza pressing sul primo controllo. Quindi in questo momento la squadra attende in maniera automatica il momento giusto per pressare l'avversario sul primo controllo una palla vagante o quando l'avversario deve controllare un pallone difficile rivolto verso la propria porta, quindi quando magari l'avversario sta gestendo troppo palla nella sua ultima 20 metri. Ampiezza in questo caso 7 per far sì che la squadra sia più larga per cercare di evitare magari perdite di tempo in zona laterale da parte dell'avversario e profondità 7 per cercare il recupero delle palla alto, ridurre la distanza tra le parti e sfruttare il pressing sul primo controllo, nonché lo spam anche della trappola del fuorigioco. Per quanto riguarda lo stile d'attacco abbiamo invece sempre equilibrato, vuole essere sempre lui il padrone di quelle che sono le sue azioni, ma in questo caso abbiamo ampiezza 7 per cercare di attrarre i difensori avversari su quella che è la larghezza dei nostri giocatori e il giocatore in area 7 vuole andare a creare più densità all'interno dell'area di rigore per far sì che l'avversario spaventato possa in qualche modo appunto concedere qualcosina in più. Angoli e punizioni sempre 2 e 3 al solito. Per quanto riguarda poi le istruzioni in questo caso abbiamo il solito partecipa all'attacco sui terzini, qui andiamo a trazione anteriore ragazzi, di fatti abbiamo avanza sui due laterali con copertura al centro e resta dietro e copertura al centro su quello centrale insomma per evitare che poi si creino proprio delle voraggini e invece di recuperare la partita insomma non facciamo altro che peggiorarla. Per quanto riguarda le due punte in questo caso abbiamo inserisciti alle spalle perché inserisciti alle spalle facendo sì che anche le due punte vadano a buttarsi in maniera più automatica dentro fa sì che andando a aver posto i due cc su avanza si vadano a creare degli spazi che questi qui possono aggredire per poter andare a finalizzare. Quindi questo per quanto riguarda lo schieramento più offensivo del 5-3-2. Un'altra domanda che spesso mi fate è gli interpreti del 5-3-2 a centrocampo quali devono essere? Possono essere, vedete, come in questo caso tranquillamente due giocatori diciamo di ruolo più un esterno, un giocatore d'attacco adattato, inevitabile, perché a meno che non partite col 5-3-2, insomma, è normale che si venga a creare una situazione di questo genere e potete tranquillamente farla. Quindi nulla raga, per quanto riguarda le tattiche del buon Duelen fondamentalmente è tutto. Vi ricordo di lasciare un bel like e un commento, fatemi sapere se, insomma, testerete questi diversi schieramenti perché secondo me c'è del buono in queste tattiche del buon Duelen. Vi ricordo di iscrivervi al canale che stiamo andando una bomba, vi ricordo che in descrizione trovate tutte le info sulle live giornaliere sulla piattaforma Viola e nulla raga, a me non resta altro che salutarvi, vi auguro una buona giornata. Ciao!